non ci la faccio camminare, non ci puoi lavorare, non ci la faccio neanche a camminare niente purtroppo a migliaia c'è da un attimo all'ospedale, ci vogliono sempre soldi ogni po' il pacchetto è 95€ i vinoli di me fai scato i vinoli di 20€ ora c'è uno martedì e uno stamattina i soldi non mi chiamano e tu ti mangiare oggi Ernesto cosa domandi? si può andare a chiudere le mani le cose che non ci la faccio giù questo cosa non cerco niente, non cerco per le carte però l'importante è che mi rende la chiudere le mani che la potessi essere andato a letto può attacchettarmi vicino ma il compagno voglio, non penso che mi riesci a cercare che sarebbe il tuo problema questo è tutto